Come va Guglielmo? Cosa stiamo facendo? E' morto. E' morto? E' morto. E qui cosa ci... Siamo pronti? Chiara, cosa sta succedendo? Stiamo commemorando il nostro caro estinto. Ah, per che parte. Dottoressa, a lei ci vuole dire qualcosa? Ah, lei è la cantante muta, è vero? C'è una cantante muta? Sì, sì, sì. Benissimo. No, è per coprire l'occhio pesto. Hai preso le botte? No, no, è... Tutta la notte, non piangere. Perché è morto? E' morto. Abbiamo anche un cameraman, vediamo lì. Mi scusi, lei è infiltrato o... Infiltrato, sì. Io sono come l'umidità povesse. Abbiamo anche il punto di ripresa molto alto, diciamo, giraffico. Giraffico. Bene, allora in bocca al lupo, ragazzi, eh? Tre, tre, tre. Tre, tre, tre. Ah, eh, allora inizia. Qui abbiamo anche l'organizzatrice, come va? Siamo emozionati per questo? Siamo emozionati, siamo orfani del caro e cercheremo di sopravvivere al dolore di questa perdita. Benissimo, speriamo bene allora, eh? Perfetto, buon lavoro a tutti. Grazie, grazie. 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 Potreste mettere un po' di musica di sottofondo, di Madrigali, del Cinquecento? Ah, beh, no, perché, certo. Eh, ma questa però, ho capito? Non si sente. No. Non si sente? Si sente? Si sente, ma... Cioè, meglio un po' di Madrigali del Cinquecento, no? Sì, sì, meglio. Favi cantarti, ragazzi, fino a... Tanto andiamo verso il cimitero, quindi stiamo... Ci dice. È la sua. Insomma, avete portato allegrie, ragazzi, qui, eh? Allegria. Comunque, stasera c'è un bel concerto alla chiesa di San Francesco alle scale. Ah. Ore 21, l'ingresso è gratuito. Siamo in una quindicina di musicisti a cantare e a suonare, e qui è solo una piccola parte, un piccolo esempio. Alle scale. Eh... San Francesco... Piazza San Francesco. È gratuito. È gratuito. È gratuito. Ci venga.